Un saluto alle persone che, ispirate dalla loro attenzione per il paesaggio, hanno deciso di seguire questa nostra conversazione. Per la giornata nazionale del paesaggio che il Ministero della Cultura ha istituito abbiamo organizzato un meeting con le sovrintendenze all'archeologia beni culturali e al paesaggio dell'Umbria, oltre che a quella dell'archivistica e dei beni bibliografici. Ospiti della fondazione di origine bancaria, ovvero la fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che in questo quadro costituisce un perno riferito proprio all'azione culturale, economica, sociale nella zona del lago Trasimeno. Infatti il paesaggio del lago Trasimeno è il tema scelto per questo incontro e apre questa sequenza, questa breve sequenza di riflessioni proprio su questo tema. Elvira Caiano, che è soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria. Grazie, buonasera a tutti. L'incontro di oggi che abbiamo voluto dedicare al lago Trasimeno, come è stato detto, ci offre non solo la possibilità di mostrare un territorio così ricco di storia, di bellezza, di natura, ma ci dà anche la possibilità di porre una riflessione sul tema e sul significato della parola paesaggio, oltre a descrivere ciò che la superintendenza ha fatto in passato per questo territorio e quali sono le intenzioni che vorrà appunto attuare per la salvaguardia non soltanto del lago Trasimeno e della sua bellezza, ma anche della regione Umbra. Il paesaggio rappresenta un pensiero di per sé aperto, come di fatto è aperta proprio la vastità che esso rappresenta e riproduce, ma il tema e il termine lascia il campo a diverse interpretazioni e a volte è stato anche usato in maniera impropria, direi, attraverso sinonimi come panorama, veduta, belvedere, ambiente o territorio, tutti sinonimi che comunque rappresentano ciascuno qualcosa e ciascuno un aspetto particolare proprio della parola paesaggio. Non può essere infatti ricondotto soltanto a concetti di produttività che sono insiti nel termine territorio, né a un mero insieme biologico che è insito nel termine ambiente, né naturalmente può essere lasciata semplicemente all'estetica, ovvero alla sfera emozionale che ciascuno di noi prova l'unica chiave interpretativa di lettura. Di fatto chi osserva un paesaggio con le sue caratteristiche di unicità e di piacevolezza è affascinato da ciò che gli si prospetta di fronte e in sé si addensano emozioni e sensazioni interiori che confluiscono proprio nel riconoscimento del paesaggio quale bene da tutelare, ovvero da mantenere nello stato in cui noi lo si guarda. Questo riconoscimento è qualcosa di soggettivo, visto che ognuno di noi ha di esso una percezione che è personale e quindi seleziona gli aspetti che lo costituiscono attraverso il proprio bagaglio culturale, attraverso le proprie esperienze. In altre parole, l'elaborazione, che è un'elaborazione mentale fondamentalmente di forme e aspetti di ciò che noi vediamo, è diversa per ciascuno di noi, anche se di fatto gli elementi che stiamo osservando sono gli stessi. Quindi il paesaggio è in sostanza il prodotto della interazione tra il soggetto e l'oggetto, vale a dire fra il filtro culturale proprio di ogni osservatore e la natura. Ma sappiamo bene che non è immutabile e qui poi interviene l'azione appunto della soprintendenza. Non è un qualcosa che rimane fermo e immutabile nel tempo, è un organismo in continua evoluzione, in continuo movimento, molto spesso proprio frutto della combinazione fra l'azione dell'uomo e quella della natura. Su questo aspetto interviene proprio la tutela del paesaggio, che è uno degli aspetti e dei campi di cui il mio ufficio si occupa. Come ricordato molto bene precedentemente, l'articolo 9 della Costituzione assegna alla Repubblica il compito di preservare non solo il patrimonio storico e artistico della nazione, ma anche di tutelare appunto il paesaggio. E se vogliamo ripercorrere un po' di storia brevemente, il disposto parte da un presupposto ideologico che univa il bello dell'arte al bello della natura, una concezione che già Benedetto Croce, allora ministro della pubblica istruzione e siamo nel 1920, esprime nella sua relazione di accompagnamento al disegno di legge che diverrà poi legge due anni dopo nel 22 con il numero 778, intitolato per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico. In questo contesto Croce afferma, e cito, che è nella difesa delle bellezze naturali un altissimo interesse morale e artistico che legittima l'intervento dello Stato e si identifica con l'interesse posto a fondamento delle leggi protettrici di monumenti e della proprietà artistica e letteraria. Quindi nel 22 la bellezza naturale è quella ancora totalmente intatta, cioè senza l'apporto e le contaminazioni antropiche. Diveniva quindi bene da tutelare quel paesaggio che aveva la capacità di suscitare nell'essere umano degli entusiasmi spirituali. non vogliamo ripercorrere i dispositivi legislativi che hanno portato nel 2004 a quello che è oggi lo strumento che noi appunto di cui usiamo per la tutela. Però vale la pena, a mio avviso, di ricordare un altro fatto importante, vale a dire la Convenzione Europea del Paesaggio, atto siglato a Firenze il 20 ottobre del 2000, che è un cardine per il nostro ragionamento. È un momento di coesione fra i membri del Consiglio d'Europa che elaborano insieme una nozione condivisa di paesaggio, ma non soltanto la nozione di paesaggio, ma anche gli strumenti per la sua salvaguardia, per la sua pianificazione e per la sua gestione. Quindi i tre aspetti fondamentali che poi vengono ad essere importanti nella nostra azione di tutela. I contenuti della Convenzione, anche se sono stati poi in Italia ratificati due anni dopo l'emanazione del Codice, però non c'è dubbio che abbiano influenzato il Codice stesso, proprio richiamandosi a quell'articolo 9 della Costituzione appena ricordato. E nella Convenzione, e qui voglio porre l'attenzione, il termine paesaggio indica una porzione del territorio, e cito, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e o umani, e dalle loro interazioni. Questo è il concetto che ritroviamo nel Codice. E paesaggio, cioè come segno della cultura delle comunità che lo abitano, quindi non solo ambiente, ma anche trasformazioni portate dall'uomo. In poche parole, paesaggio come identità. Certamente in questo contesto il lago Trasimeno, che abbiamo voluto appunto porre ad esempio di questa giornata, rappresenta una davvero delle peculiarità del paesaggio umbro. È un lago che ha ispirato artisti, scrittori, studiosi, fra i quali mi piace ricordare Cesare Brandi, un padre del moderno restauro, che l'ha definita un velo d'acqua su un prato. È una definizione davvero intensa, carica di senso, che parte proprio dal fatto che il lago è poco profondo, ma lo descrive in poche parole, dando la percezione emotiva che ciascuno ha al momento in cui si trova di fronte a quel paesaggio. Un'ulteriore particolarità però del lago Trasimeno è quello di avere, di racchiudere tre isole al suo interno, l'isola polvese, l'isola maggiore e l'isola minore. E questa caratteristica dà proprio unicità paesaggistica, anche proprio nel carattere storico, in quello sociologico, infine in quello economico, rappresenta compiutamente la definizione di paesaggio che abbiamo visto come prodotto di agenti naturali e del fattore antropico. L'azione di tutela su questo luogo così straordinario è iniziata nel 1927, con la dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del promontorio di Castiglione del Lago, azione che poi è proseguita nel tempo fino alla più recente dichiarazione di parti del territorio denominate alture settentrionali del Lago Trasimeno. Sono 16 provvedimenti in circa 90 anni. hanno di fatto ricuscito tutta l'area intorno al lago in un'azione di salvaguardia, dimostrando in questo modo come davvero l'attenzione alla bellezza e a quello che è il valore identitario di questo luogo non siano di fatto mai cessati. Il territorio del Lago Trasimeno è sempre stato infatti vissuto, ha sempre avuto la caratteristica di sito produttivo, commerciale, venatorio, come anche gli importanti resti e ritrovamenti archeologici hanno testimoniato. Ancora oggi è un ambito vivo, con attività prevalenti, indirizzate verso il turismo, verso lo sport, la ristorazione, attività alberghiere, che fra l'altro ci auguriamo tutti che possano riprendere e rifiorire nel più breve tempo possibile. Un territorio quindi oggetto di trasformazione, abbiamo detto, e in questo senso vorrei concentrare l'attenzione su ciò che costituisce l'obiettivo attuale dell'azione della sovrintendenza, non soltanto, come ho detto all'inizio, per il territorio del Lago Trasimeno, ma in generale per tutta la Regione Umbra. Tutela e gestione, non esclusivamente e meramente conservative, ma aperte. Tutelare per preservare e tramandare, ma attraverso un'azione finalizzata a una conservazione attiva del territorio e dei valori culturali che in esso sono riconosciuti, secondo un approccio strategico che pone alla base dell'azione amministrativa un'idea complessiva del territorio e dei valori da tutelare. Il nostro fine è la conservazione dei valori che non freni però le dinamiche positive del territorio, cioè quelle improntate a una trasformazione sostenibile e di qualità, ma che di fatto, per contro, impedisca che vengano snaturati l'identità e il valore culturale del territorio. Il tema per noi centrale e irrinunciabile di questo approccio è la collaborazione fra le amministrazioni del territorio coinvolto, con gli enti, con le fondazioni, come in questo caso, con i cittadini e in questo senso che la soprintendenza vuole agire, superando il concetto che troppo spesso la definita ostacolo, per divenire invece partner e sostegno. Questo è quello che noi ci auguriamo, che stiamo costruendo, non soltanto per il lago Trasimeno, ma, come dicevo, per tutta la regione Umbra. Grazie. Da Linari al Drone, un ponte tra tecnologie, tra culture, tra secoli diversi, è il sottotitolo della conferenza e di questa giornata per il paesaggio che si viene a svolgersi in questa forma, è dedicata al lago Trasimeno. Da Linari al Drone è la rappresentazione di tutto quello che è possibile vedere e percepire di quella che è stata la fissazione su un supporto fotografico o digitale del paesaggio del lago Trasimeno. Un lavoro che sta svolgendo la soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria, la cui titolare è Giovanna Giubbini. A lei la parola. Questo incontro sul paesaggio che condivido e ringrazio la dottoressa Cagliano, il soprintendente e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cristina Colaiacovo per appunto aver condiviso e affrontato insieme un argomento che è quello del paesaggio da punti di vista diversi. Abbiamo sentito quella che è la problematica relativa alla tutela del paesaggio, di questo patrimonio. Per quanto riguarda i beni, la soprintendenza archivistica, a noi ci occupiamo soprattutto di quella che è la memoria del paesaggio. In questo senso il paesaggio, ci è stato detto anche prima da Elvira Cagliano, è anche il frutto del lavoro dell'uomo. È quello che noi, dove l'uomo è intervenuto con le sue attività. E la suggestione, l'ammirazione comunque per questo paesaggio è stata tramandata nel tempo in diversi modi. Ovviamente il modo più immediato e come hanno fatto è la testimonianza che ci danno i pittori del passato, che basti pensare agli sfondi del Perugino o ancora per un artista più vicino a Gerardo Dottori con le varie rappresentazioni del lago Trasimeno, visto che di zona del lago Trasimeno oggi si parla. Di paesaggi ne hanno in letteratura, ci sono tantissimi esempi. Anche in una prosa però meno aulica, quella che è dei documenti di archivio, si trovano le iscrizioni di paesaggio anche nelle relazioni amministrative, dove soprattutto nel passato, quando i burocrati lasciavano, diciamo, si lasciavano prendere un po' dalla mano e soprattutto dallo spirito e ci danno anche in documenti l'immagine di bei paesaggi. La documentazione sicuramente che ci dà maggiori notizie, informazioni e descrizioni del paesaggio, è quella che noi troviamo nei carteggi, nelle pistole e nei diari di viaggio. Nelle lettere, soprattutto nelle lettere familiari, private, spesso l'estensore si lascia andare a descrizioni, anzi proprio a evocazioni dei paesaggi visti, per non parlare poi dei diari di viaggio. Nei diari di viaggio, soprattutto dei grandi viaggiatori del XVIII-XIX secolo, si trovano bellissime descrizioni di paesaggio. Ricordo un famoso viaggiatore, Goethe, che nel 1876 si reca a Perugia da Firenze e descrive il percorso che fa costeggiando, come lui dice, il lago Trasimeno o di Perugia. Arriva a Perugia e poi riparte e nel suo diario appunto annota che è stato, ha visto un paesaggio molto ameno e se ne è riempito gli occhi. Quindi ecco, queste sono le suggestioni, le testimonianze e anche descrizioni a volte molto particolarizzate. A partire dalla fine dell'Ottocento, accanto a questi documenti descrittivi, quindi scritti in prosa, abbiamo anche la documentazione fotografica. La documentazione fotografica che ci restituisce l'immagine dei paesaggi e che non si tratta solo di fotografie fatte nell'ambito familiare del tempo libero per documentare una gita, un viaggio, momenti di vita familiare, ma vi sono anche fotografie che sono fatte, diciamo, con una commissione istituzionale, fatte proprio per documentare. Ed è uno di questi casi della fine Ottocento, ci porta proprio sulle sponde del lago Trasimeno. Guido Pompili, scusate, parlamentare, presidente del consorzio della bonifica del lago Trasimeno, nel 1896, commissione Fratelli Alenari, la realizzazione di un album fotografico dei paesaggi del lago Trasimeno e dei lavori di esecuzione per la bonifica del lago, cioè la costruzione del nuovo emissario. Nel 1898 questo album è fatto e viene esposto all'esposizione nazionale di Torino insieme ai progetti di esecuzione, i progetti per la realizzazione del nuovo emissario del lago Trasimeno. Quindi queste foto di Alenari che costituiscono, anche sono riprodotte in una parte del filmato che vedremo alla fine di questo incontro, sono conservate nell'archivio storico del consorzio di bonifica del lago Trasimeno, non presso i fratelli Alenari e oggi sono conservati presso la biblioteca comunale di Magione, anzi ringrazio Francesco Girolmoni del comune di Magione che ci ha permesso l'uso di queste foto. E proprio questa documentazione è importante perché non solo sono le uniche copie originali dei paesaggi del lago Trasimeno realizzati da Alenari tra il 1896 e il 1897, ma sono anche i primi paesaggi che gli Alenari fanno esclusivamente paesaggi. Cioè prima della metà degli anni 90 i cataloghi Alenari non avevano esclusivamente paesaggi. A partire dalla metà degli anni 90 si dedicheranno solo a paesaggi riducendo al minimo la presenza dell'uomo. Per avere i paesaggi invece vivi diciamo con la presenza dell'uomo, dobbiamo andarli a cercare in altre fonti fotografiche che sono quelle realizzate da fotografi professionali ma locali, non del livello di Alenari, oppure fotografi amatoriali. Queste fotografie sono per lo più conservate dagli eredi, se sono morti, di questi fotografi conservati presso le abitazioni, presso associazioni. Ed è proprio questo l'attività che sta svolgendo la soprintendenza archivistica di andare a censire gli archivi fotografici privati che ci restituiscono importanti, che costituiscono un tassello importante per la storia del paesaggio, in questo caso del Trasimeno ma poi di tutta la regione, di tutto il territorio nazionale. Ad esempio nel filmato che noi vedremo ci sono le foto di Alenari che vengono da appunto l'archivio dello consorzio di Bonifica, però vedremo le foto di Ficola che fanno parte di un archivio privato che è dello studio Ficola. Le realizzazioni, le riprese fatte dal drone a cura della soprintendenza, archeologia, belle arti e paesaggio andranno a far parte dell'archivio della soprintendenza. Quindi tutte queste fotografie del passato ma anche attuali costituiscono delle fonti importanti per conoscere questo grande patrimonio che è il paesaggio. Conoscere il paesaggio come era e come diviene attraverso questa documentazione significa avere anche gli strumenti per mettere in atto dei progetti e dei programmi di salvaguardia, di tutela e anche di uno sviluppo che sia compatibile appunto con la tutela del paesaggio stesso come ci ha ricordato prima appunto la soprintendenza caigliano. Quindi è questa l'attività essenzialmente che il nostro ufficio sta svolgendo, la nostra soprintendenza, quella di censire soprattutto fonti del Novecento in modo particolare le fonti che noi chiamiamo su nuovo supporto che sono fotografiche, filmate, sonore e che ci restituiscono appunto ci permettono di conoscere il paesaggio italiano. Una fondazione di origine bancaria come quella che viene a scaturire dall'antica tradizione della Cassa di Risparmio di Perugia è un soggetto particolare e che è un raccordo, svolge una funzione di collegamento tra i vari piani, quelli che appunto ci hanno portato a ragionare, a riflettere, ad approfondire sul tema del paesaggio. Il paesaggio come natura, il paesaggio come frutto dell'azione umana, ovvero una relazione che si può sviluppare solo grazie a degli strumenti che hanno nell'economia il loro motore. Quindi una fondazione di origine bancaria come quella che Cristina Colaiacovo presiede ha una funzione particolare e lasciamo a lei la parola. Grazie, grazie anche per aver colto questo aspetto fondamentale di quello che è il ruolo appunto delle fondazioni di origine bancaria. Permettetemi prima magari di iniziare il mio intervento di ringraziare le due sovrintendenti, Cagliano e Giubini, che hanno aderito a questo invito e a tutti gli ascoltatori che in questo momento hanno deciso di seguire questo approfondimento dedicato appunto ad un tema fondamentale che è quello del paesaggio. Non solo nell'aspetto che riguarda quello che effettivamente è e cosa contiene il paesaggio, ma anche dal punto di vista materiale e simbolico del paesaggio. Ringrazio Chioini perché si è prestato anche a questa moderazione e soprattutto la struttura della fondazione che ha lavorato alla realizzazione di questo evento. E in effetti parto da una domanda che è quella che lei mi ha rivolto, che è stata poi la domanda che io stessa mi sono rivolta nel momento in cui ho dovuto preparare il mio intervento per questo evento. Qual è il ruolo della fondazione appunto in una giornata come questa che celebriamo oggi, che è quella del paesaggio? Parto dal presupposto che appunto il paesaggio è l'insieme dei beni culturali e quindi le chiese, i palazzi, i centri storici e delle bellezze naturali e quindi in questo senso il paesaggio è anche montagne, patrimonio rurale, fiumi e in particolare anche i laghi e noi appunto abbiamo un patrimonio importante paesaggistico in Umbria che è quello del lago Trasimeno. Questi sono elementi caratterizzanti proprio del programma delle fondazioni di origine bancaria a cui noi prestiamo particolarissima attenzione perché appunto abbiamo la consapevolezza che il paesaggio faccia parte di quei valori diffusi che non sono soltanto estetici ma anche culturali e anche delle tradizioni sociali del nostro territorio. La fondazione in particolare nella sua progettazione di medio e lungo periodo quindi non in quella di breve che riguarda interventi più che altro spot cerca proprio di declinare a livello locale la collaborazione con gli enti e le istituzioni proprio a preservare e tutelare il patrimonio paesaggistico. In questo senso mi piace ricordare alcuni esempi che abbiamo fatto nel tempo anche per essere abbastanza concreta rispetto a quello che è la nostra attività sussidiaria sul territorio. Una di questi che mi viene di citare è il parco delle sculture di Beverly Pepper realizzato a Todi, realizzato e inaugurato nel 2020, è il primo parco monotematico di scultura contemporanea in Umbria ed è proprio l'esatto esempio in cui il mecenatismo diciamo privato si unisce a quello delle istituzioni come quello della fondazione e alle istituzioni pubbliche rappresentate in questo caso dal comune di Todi e in questo senso appunto noi siamo intervenuti con il contributo economico insieme ad una rete diffusa di soggetti. Un altro esempio che mi piace citare è quello del Bosco di San Francesco di Assisi, Assisi tra l'altro città dell'UNESCO, non possiamo dimenticarlo, che appunto come ente di istituzione è proprio questo brand che tende a tutelare il valore storico e culturale e paesaggistico di ciò che viene appunto inserito nel suo circuito. Penso anche alle numerose iniziative di cittadinanza attiva che noi sosteniamo che servono proprio a tutelare gli spazi verdi e il paesaggio delle nostre città, cosa che non dobbiamo dimenticare. Oltre a tutto l'intervento che appunto la fondazione opera sul territorio tramite la tutela del patrimonio artistico che come diceva la sovrintendente Giubbini fa parte di quella memoria storica legata appunto al paesaggio e che merita anch'essa di essere tutelata. Un altro grande progetto che mi piace ricordare, proprio legato in questo caso alla zona del Trasimeno, è il progetto ideato e realizzato dalla cooperativa sociale Frontiera Lavoro che è stato uno dei grandi bandi welfare del 2018 finanziato dalla fondazione sul lago Trasimeno. A questo progetto hanno aderito molti comuni della fascia appunto dell'area del lago Trasimeno e in sostanza è stato costruito un percorso terapeutico a cui partecipano di giovani e giovanissimi affetti da malattie e da disturbi psichici insieme a dei maestri di artigianato e quindi abbiamo riscoperto insieme a questo progetto anche alcune tradizioni locali tra cui la ceramica, il merletto, la lavorazione del vetro con il museo di Piegaro, la cultura della pesca, la botanica e tutti questi arti sono stati riscoperti in una chiave differente quindi insieme anche all'aspetto sociale e ne hanno creato un progetto dal titolo Trasimeno Social Craft. Questo progetto è stato appunto finanziato dalla fondazione insieme ad una rete di altri soggetti partecipanti tra cui anche alcuni musei della zona del Trasimeno e si dovrebbe concludere con un evento che purtroppo causa pandemia sarà rimodulato e sarà un video dedicato appunto al festival del paesaggio del lago Trasimeno quindi per dire come noi in tutte queste situazioni siamo parte attiva insieme ad altri soggetti. Ricordo anche che tutelare il paesaggio è fondamentale fattore di sviluppo turistico e il turismo fa parte della nostra programmazione quindi non possiamo dimenticare quanto questo elemento sia poi fondante anche di un'economia, di uno sviluppo territoriale. A questo riguardo il paesaggio letto anche in chiave da vivere è uno degli altri argomenti che la fondazione non può dimenticare nella sua programmazione finanziando numerosi eventi che hanno anche un risvolto paesaggistico, culturale e sostenibile e tra i quali mi piace ricordare Suoni Controvento che è stato un evento musicale che si è tenuto sulla zona dell'Appennino in chiave sostenibile legato appunto alla tutela e alla preservazione del paesaggio grazie alla riscoperta di luoghi difficilmente frequentati da un pubblico vasto. In questo senso quindi stanno andando anche le politiche nazionali perché come avete visto anche nel recente governo sono stati istituiti da un lato il Ministero della Transizione Ecologica e dall'altro il Ministero del Turismo questo a significare quanto questi due aspetti siano fondamentali nella nostra programmazione sulla base di un percorso tracciato anche dall'agenda dell'ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Infine prima di chiudere vorrei ringraziare nuovamente le sovrintendenze che svolgono questo ruolo fondamentale di coniugare la modernizzazione dell'identità della nostra comunità insieme alle radici storiche e culturali che rappresentano i nostri luoghi e in particolare vorrei prendere spunto da quanto diceva prima la sovrintendente Cagliano sul ruolo della sovrintendenza che secondo me è molto importante cioè il fatto che non debba essere percepita come ostacolo ma soprattutto come un partner con il quale collaborare, con il quale trovare soluzioni e con cui appunto collaborare. Infine il video che vedremo al termine di questo breve intervento vorrei ricordare che è stato realizzato appunto in collaborazione tra le nostre istituzioni e oltre ad avere uno scopo divulgativo avrà soprattutto l'obiettivo di essere un prodotto diffuso anche a supporto della didattica e quindi della didattica a distanza in un momento particolarmente complicato e difficoltoso anche appunto che sta attraversando il nostro sistema scolastico e quindi grazie a tutta l'opera che le sovrintendenze stanno portando avanti da un lato per la tutela del paesaggio e dall'altro soprattutto per le testimonianze che sono state in grado di portare alla luce grazie appunto al lavoro di ricerca della sovrintendenza archeologica. Da questa collaborazione tra varie istituzioni così particolari è scaturita la produzione del video che vi lasciamo adesso seguire. Si tratta di un prodotto che è riferito proprio al lago Trasimeno e quindi alla sua storia e alla documentazione sul lago Trasimeno che potrà essere utilizzato anche nelle forme più svariate compresa quella della didattica a distanza. Buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.